La ringrazio, Presidente. Poco fa l'assessore Maran ha fatto questa dichiarazione alle agenzie. Il Movimento 5 Stelle a Milano ha fatto la sola battaglia contro la metropolitana. Normale che faccia così, ma un partito politico dovrebbe porsi gli obiettivi da raggiungere nella legalità, non bloccando i cantieri. Così l'assessore alla mobilità Pierfrancesco Maran, a margine di una commissione a Palazzo Marino, commenta le iniziative di protesta di Stamani, di Movimento 5 Stelle, di comitati cittadini in Viale Argonne e Viale Orienteggio per i cantieri della Metro 4. Il progetto è stato condiviso con tanti e con la recente delibera abbiamo ridotto gli impatti, con soddisfazione di molti cittadini. Appena possibile si va avanti. Io prima di tutto cercherei di capire un attimo la soddisfazione di molti cittadini, dato che a qualunque cittadino a cui si spieghi in cosa consistono le modifiche dell'ultima delibera, si accorgono immediatamente che non ci sono di fatto modifiche rispetto alle promesse di qualche mese fa e praticamente rispetto ai progetti di gennaio. Seconda cosa, questa mattina diversi cittadini dei comitati cittadini, degli abitanti di Viale Argonne, di Laurenteggio, hanno fermato i cantieri. Noi abbiamo dato supporto a questo. È un'azione di disobbedienza civile? Sì, credo di sì. I comitati cittadini hanno deciso di farlo. Ma noi riteniamo che una protesta dura sia assolutamente necessaria nel momento in cui decine e decine e centinaia di alberi vengono abbattuti inutilmente. Per noi è inaccettabile che non vengano rivisti i progetti e le modalità costruttive. Per noi è inaccettabile che non vengano utilizzate per le periferie le stesse modalità costruttive che vengono utilizzate per il centro. Perché se costruissimo come la stazione di Argonne, come facciamo San Babila, gli alberi non andrebbero abbattuti o verrebbero ridotti di tantissimo. Quindi perché in centro possiamo utilizzare questa modalità? Perché ci sono i ricchi? Perché non possiamo aprire la città? E in periferia buttiamo giù gli alberi perché è più comodo? Per noi è assolutamente inaccettabile. Ho già fatto queste domande all'assessore nell'ultimo articolo 21. Ha deciso di non rispondere. Prima di tutto vi chiedo se ci sta ascoltando. Venga in consiglio a rispondere seriamente a questi punti come non ha ancora fatto. Vuole andare avanti con gli abbattimenti? È sbagliato. È sbagliato perché non sono state riviste le modalità di costruzione. Noi richiediamo questo. Pretendiamo che venga in consiglio a spiegarlo. E fino a questo ovviamente appoggeremo i cittadini nella disobbedienza civile nel fermare una decisione assolutamente sbagliata. Grazie. Grazie. Dal consigliere del firmatario. E gliel'ho chiesto esplicitamente. Sì, confermo. Prego. Grazie, Presidente. Questo ordine del giorno va nella direzione di ragionare insieme sugli impatti che più volte quest'aula consigliare ha sollevato in modo unanime ci sono per i cantieri dell'M4 relativamente alle, tra gli altri aspetti, alle attività commerciali e alle attività artigianali perché la costruzione della M4 è sicuramente un grande obiettivo strategico della città che tutti quanti abbiamo condiviso. altrettanto maggioranza e opposizione hanno condiviso quando in sede di bilancio e del delibero... Tutti vuol dire tutti, siccome non ho mai avuto... Maggioranza. Anche maggioranza. Tutti della maggioranza non è così. Maggioranza del Consiglio, parlavo. Prego. Non ho mai potuto discutere della M4, purtroppo. Però gli interventi dei consiglieri...